Il futuro sarà quello dei biocarburanti e in particolare il gas, la cui produzione Lenin intende aumentare per coprire almeno il 20% del fabbisogno nazionale. Il famoso piano Argo, già annunciato nei giorni scorsi, che avrebbe il suo epicentro ancora una volta in Sicilia attraverso gasdotti sottomarini e investimenti complessivi per oltre 2 miliardi. Ma d'altro canto il nuovo piano industriale non lascia margini di dubbio sul destino della raffineria di Gela che sembra ormai segnato. L'intenzione è quella di chiudere, bonificare e riconvertire lo stabilimento in funzione della produzione di biocarburante. Un progetto che prevede l'impiego di 790 persone. Dei 1.200 attualmente impegnati nella raffineria sono dunque 410 gli operai in esubero. Inevitabile dunque che il vertice di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico, fra azienda, sindacati e rappresentanti del governo nazionale e regionale, diventasse terreno di nuovi scontri. Da un lato i sindacati che accusano Lenin di avere cancellato con un atto unilaterale l'intesa di un anno fa che prevedeva investimenti per 700 milioni e chiedono di mantenere gli impianti attivi e riazionare almeno una delle tre linee di raffinazione ferme da marzo. A sostenerli c'era anche il governatore Crocetta, secondo il quale il piano dell'ENI in Sicilia porterebbe a un calo del pille del 7%, Crocetta minacciato anche lo stop alle attività estrattive. Dall'altro lato l'ENI, che invece alla raffinazione sembra aver detto definitivamente addio e sulla chiusura di Gela, non vuol fare passi indietro. Nessun accordo insomma almeno per ora. Dopo la rottura di ieri sera la trattativa è stata a ripresa su iniziativa del ministro Federica Guidi, ma la strada sembra insalita mentre fra i lavoratori la tensione continua a crescere. A Gela i presidi attorno allo stabilimento sono stati rafforzati e le segreterie e sindacali preparano nuove iniziative di lotta.